Attenzione, giù Frida, proviamo l'ultima azione del primo tempo Mangiapane per Mancoso che prova a involarsi, attenzione a Mancoso Sulla sinistra rinviene l'avversario, ancora Mancoso, mette dentro per l'Atanzio La palla esce di un soffio, incredibile, incredibile, incredibile I maggiori pericoli vengono da questo lato per la Neapolis Un minuto di recupero, un minuto di recupero